Voghiera è uno dei 12 comuni della provincia di Ferrara, oltre alla città capoluogo, dove si andrà al voto per le amministrative del 26 maggio. Quattro sono le frazioni della località, Ducentola, Gualdo, Montessanto e Voghenza, in un territorio di poco meno di 4.000 abitanti. Due sono i candidati che si presentano all'elettorato locale, Stefano Lobiundo per la civica Voghiera Aperta e Paolo Lupini per la civica Progetto Comune per Voghiera, il cui attuale primo cittadino è Chiara Cavicchi. La nostra lista si è proprio inata come lista civica pura, perché raccoglie all'interno della sua formazione anime di diversa appartenenza politica. Non disconosciamo nessuna delle appartenenze politiche, ma riteniamo che quello che vogliamo fare sia quello di mettere in campo delle idee per far crescere e rivivere il nostro territorio, che ultimamente ha presentato momenti di stanca. Noi abbiamo identificato nel nostro programma al primo punto la persona, il cittadino e la sicurezza, perché riteniamo che il cittadino deve essere ascoltato, la persona deve essere accompagnata in tutte le sue fasi di crescita sociale e la sicurezza, garantire che questo possa avvenire nella tranquillità più assoluta. Noi non vogliamo distruggere nulla di quello che è stato fatto fino ad oggi, noi vogliamo semplicemente implementarlo e farlo crescere. Il Progetto Comune è un gruppo di persone che da tanti anni lavora sul territorio per migliorare la qualità della vita delle persone. Noi siamo uno strumento a disposizione dei nostri cittadini per realizzare le loro idee. Abbiamo pronti una serie di progetti che sono già stati anche in parte finanziati, che dobbiamo realizzare a breve e il primo atto che metteremo in movimento in caso di vittoria a queste elezioni sarà supportare gli uffici comunali per snellire la burocrazia ed essere in grado a breve di realizzare tutte le opere che abbiamo già pronte. Abbiamo questi progetti già finanziati, quindi il recupero degli spogliatoi dei campi da calcio di Gualdo, abbiamo da sistemare alcune parti del tetto delle scuole, abbiamo da finire e completare il lavoro di recupero delle strade comunali e da installare le videocamere per la sorveglianza intelligente. Inoltre abbiamo alcune iniziative per rendere più bello il nostro paese.